A Rocca San Giovanni, Conad Adriatico ha dato appuntamento a 250 studenti delle scuole medie e superiori del territorio per seguire la diretta satellitare dell'evento dal cinema della città, insieme ad oltre 30.000 studenti collegati da tutta Italia. Con Nicola Fossemo, presidente della Fondazione Conad, una giornata interessantissima, importantissima, soprattutto qui a Lanciano, per sensibilizzare la nuova generazione, quella dei più piccoli. Esattamente, ci è sembrato giusto e doveroso svolgere questa giornata grazie alla Fondazione Conad ETS per sensibilizzare le nuove generazioni su un tema di vitale importanza, ambiente e sostenibilità, su cui l'azienda Conad oramai sono anni che pone un'attenzione spasmodica su tutto quello che fa quotidianamente, dalle nuove aperture alla gestione dei magazzini, dei trasporti e quant'altro. Quindi ci auguriamo che, coinvolgendo le nuove generazioni, si sensibilizzino per avere un mondo migliore. 30.000 ragazzi collegati in tutta Italia, qui a Lanciano sono circa 300 i ragazzi presenti. Obiettivo centrato, presidente? Certamente. Il secondo evento che effettuiamo, con la Fondazione ETS e in collaborazione con Unison, anche l'evento che è stato fatto qualche mese fa, che aveva un tema diverso, quello della legalità, ha riscontrato presenze da parte dei ragazzi che superavano i 30.000 in quella giornata. Quindi obiettivo raggiunto e coinvolgimento veramente molto soddisfacente, che ci ha addirittura stupiti. Il progetto, reso possibile grazie alla Fondazione Conad ETS e all'impegno delle cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Adriatico, dà la possibilità agli studenti di aderire al programma formativo nazionale e di fruire dalla visione di questi eventi nelle loro città.